se volete acquistare i crediti fifa andate nei link in descrizione fifacredits.com bene ragazzi sono Daniel e sono tornato con un nuovo pink slips e questa volta in palo c'è un intanto se sentite questo rumore è perché c'è il condizionato acceso perché sto registrando con tutto chiuso e quindi devo in qualche modo vivere perciò in questo pink slips c'è in palio 150k perché non sapevo che giocatore dare quindi sì sono stato le ore e le ore a pensarci le ore e le ore ma non ho trovato una soluzione perciò ho deciso vi do 150k se vincete eccoci qua siamo pronti per giocare pensate andiamo a vedere la sua squadra la sua squadra ore porca puttana pezzo di me non pensavo di vabbè bando le chat siamo forse anche noi ce la possiamo fare ce la possiamo fare dai così vedi di là il charawi subito il charawi bravo il tuo sguatta mamma mia il charawi eccolo caglieconi 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 il tiro ma mamma mia nome si inizia subito bene dopo nuove minuti per il blog posto dei bag no no grazie la storia l'avanzia lasciarà è partito è partito di natale non ce la vuole fare nessuno facciamo il gol della merda il gol della merda se l'hai maniato no 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 chi cazzo sei tu ancora Cali Conn la divinazione è rete rete è per lui cos'è Cali Conn che esultanza bella che c'ha proprio imponente Cali Conn 2 a 0 oh Ballotelli numero oh Ballotelli ancora eh no ma tu sei la palla sta là perché vai avanti no 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 esci buffo esci ma dai ma che cazzo de coe ma dai ma mi sta a prendere il culo si non tu regalavo io sto co dai eh non ci dobbiamo disunire dai no 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 non è vero dai fuorigioco vero ok 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 va bene così ti sei ripreso dai no perché non hai mandato il barbo ho caricato tutta la linea no vabbè dai su vaffanculo va per cazzo di passaggio sbagliato ma perché passi a lui perché passi là che ci stanno 40 persone eh ecco il 3 a 2 via sta palla cristo no vabbè non si riesce più a toccare una cazzo di palla vabbè pure tutti i cazzo di passaggi sbagliamo pure comunque in quest'attimo di pausa andate che attimo qui sotto e lasciate like dobbiamo arrivare a 800 like per avere un altro Pigslist per vedere il prossimo Pigslist stasì ne voglio 800 sì sì mo vabbè mo ne va con i giochetti va stronzo vai parutelli parti 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 eccolo che sta dentro cos'è cos'è fallo e rigore d'ha messo rigore che venduto che venduto vai che con vai corri che sei più veloce corri 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 fallo dai di natale buca sta difesa buca sta difesa il tiro e la prende lui e la prende solo lui no 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 ti prego no 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 chiudi chiudi mamma mia buffona no porca madosca al 90 no nooo no arno vantesimo dai ti prego rientra 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 fannaccia la miseria oh non va pure al parquarto guarda da 2 a 0 stavo 2 a 0 2 a 0 no 1 è finita è finita no non c'è posso niente vabbè rica no non ce la fa non ce le forze di farla stai staltro se il video vi è piaciuto lasciate un like voglio arrivare a 800 like come ho detto già prima per vedere la prossima sfida e magari consigliatemi qua sotto il prossimo giocatore da mettere in pink slicks l'elicottero che passa sopra casa mia in questo momento non potete aspettare 5 secondi no e mettete ditemi un giocatore all'interno diciamo di questa fascia 150k e se vi è piaciuto il video lasciate mi piace condividete e fate quello che cazzo vi pare e niente ciao